Oriana Marzioli è arrivata seconda classificata. Se ne va con l'amaro in bocca. Ci ha creduto fino alla fine di vincere ma Nikita ha avuto la meglio. Ma per Oriana non è finita qui. Dopo la diretta del Grande Fratello, che ha visto come vincitrice Nikita finita la puntata ha trovato fuori una dolce sorpresa ad aspettarla. Daniele Del Moro. La aspettava in una limusin piena di luci e fiori. I fans attorno le hanno regalato fiori e lettere. Oriana sale subito in macchina e abbraccia Daniele. Lo bacia e fanno la pace. I fans la circondano e Oriana sembra non capire più nulla. Stranamente Daniele ha avuto un ritorno di fiamma nei confronti di Oriana visto che la stessa era potenzialmente vincitrice ha voluto mettersi in mostra sfruttando la notorietà che ora ha Oriana per poter andare come coppia nei vari programmi. Televisivi ma è una coppia che non durerà perché Daniele è uno stratega guidato da manager che sanno come dargli visibilità.